Ti volevo chiedere un favore, se mi puoi dare una bicicletta oggi e fra due giorni ritorno e ti pago. Un favore ti sto chiedendo, non ho niente da fare. Tu guardi la bicicletta adesso, poi torni tra due giorni e mi dai i soldi? Esatto. Non si può fare, io non ti posso dare la bicicletta gratis, capisci? Sì, lo so, però non è gratis, non è che vengo a prendere una bicicletta e vado. Ritorno e poi ti pago. Ho capito, ma è una questione di lavoro, io ci lavoro con le biciclette. Sì, anche io stavo lavorando. Ma è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Un'altra cosa con me. Perché quando viene la gente qua che vuole vendere le biciclette, io gliele pago, le aggiusto e poi le rivendo. Sì, lo so, però ero qua due giorni fa a comprare qua una bicicletta. Ma infatti ti ho trattato anche bene, no? Per quello sono ritornato. Eh, ho capito, però ascolta amico mio, io non ti posso dare la bicicletta adesso, poi tu torni se torni. Ma io torno. Ma figurati, Giovanna. Guarda, ho un cellulare qua, te lo do fra due giorni e ritorno. Ma figurati, non vale manco dieci euro. Perché ne so io che è tuo. Sì, lo so, però guarda, se non ho la bicicletta non posso ritornare a pagarsi. Se lo faccio a te poi spuntano altri dieci come te. Ma io non posso farlo così. Nessuno viverà qua. Torno io. Non è che scappo con la tua bicicletta, no? Non sono così. Guarda, non ti posso... Fidati di me. No, no, non è una questione di fiducia, mi sembri anche un bravo ragazzo, ma non funziona così, capito? Qui non funziona così. Non funziona così qua. Chiaro? No, no, non è una questione di fiducia.